Le presento François, è professore di lettere all'Erico 4. Le tre migliori dice in Francia. Penelope 5. Ci si annoia troppo a leggerlo, lo sai? A Parigi i danni sono limitati, ma in periferia... Ci scaricano professori giovani totalmente inesperti e allora al contrario dovrebbero prendere i professori già esperti. Gadkoffman mi ha detto che vorrebbe trasferirsi in una scuola di periferia. Un piccolo consiglio con gli studenti fatti rispettare subito. Io sono François Foucault. Foucault? Sì, Jean-Pierre Foucault. Bella questa. Basta, spettetela! Perché fanno questo... il chip? Vada a sedere al suo posto. Dov'è il libretto? Me lo porti per favore. Non sono il suo cane. Che fa ora? Mi picchia? Si è visto subito che eri in cerca di guai. Ora viene a farci lezioni morali e ci dici cosa fare e non fare. Sei due dombele guampasie e un'ora di punizione. Perché? Che ho fatto? Due ore. Non ho fatto niente. Quattro ore. E a te come va? A me? Perfetto, di male in peggio. One hundred days! È quella scuola. Non ne posso più. È impossibile fare lezione. Accumulano brutti voti, umiliazioni. Dunque, si credono idioti. Tu non ti rendi proprio conto? Posso andare a pisciare? Sulla testa di mia madre. Ho bisogno di pisciare. Faremo l'analisi grammaticale. Quanto rompe con la grammatica. Quindi, vediamo che ho bisogno di pisciare dove sulla testa di mia madre. Facciai i compiti richiesti e tutto andrà bene. Mi scusi, professore. La prego di volermi scusare. No, sono io che mi scuso. Ok. Ciao. 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 Ciao.